Parte domani la Fiera dell'Agricoltura, siete già pronti, carichi? Siamo tutti pronti, siamo carichi, speriamo che il tempo ci dia una mano. Domani non è prevista una benissima giornata, anche se pare che l'inaugurazione la faremo tranquillamente. Siamo pronti, sabato e domenica si prospettano due giorni un po' migliori, quindi speriamo che il tempo ci dia una mano. Io ci tengo a precisare, a ricordare che anche quest'anno ci sarà il bus di navetta gratuito e ringrazio per questo la Baltur che come ogni anno mette a disposizione gratuitamente i propri mezzi ed è un segno di grande vicinanza al territorio. Le fermate partiranno da Piazza Garibaldi dalle ore 10 alle ore 20 ogni ora. Poi da Piazza Garibaldi il bus navetta farà diverse fermate, la prima sarà la Cicconvalazione Ragusa, Piazza San Francesco, Stazione delle Ferrovie, Via Lecrispi, Via Europa e Bivio di Nepezzano, dove c'è il sottopasso del centro commerciale. Abbiamo evitato che si passasse dalla superstrada perché spesso si incorga durante la feria dell'agricoltura. Quest'anno grande attenzione al prodotto tipico più degli scorsi anni? Sì, l'area reno gastronomica è una delle novità più importanti. I piatti della tradizione con i prodotti del territorio sembra una cosa normale da fare, però in realtà è una grande novità perché spesso anche per i piatti della tradizione si vanno ad acquistare le materie prime che non sono del nostro territorio. Quindi abbiamo avuto una grande attenzione su questo, 600 metri quadri coperti in questa area no gastronomica. Domani, venerdì, ci sarà addirittura anche il pesce del nostro mare adriatico. Veramente è stato fatto un lavoro straordinario.